Ok, ok. Allora, cerco di essere conciso. Io voglio sapere, Xyuder, come nasci? Cioè, come dici, ok, che lavori hai fatto nella tua vita? Cazzo, io ne ho fatti veramente tanti. Io ho iniziato a 14 anni facendo il manovale, quindi aiutavo i muratori. Eravamo piccolini a 14 anni, quindi cosa si faceva? Se volevi quattro soldi andavi in giro in bicicletta nel paese o nei paesi vicino, andavi nei cantieri e dicevi ai muratori, si diceva, donate, hai bisogno di un magut, che vuol dire hai bisogno di un muratore che ti aiuta? Alcuni ti dicevano no, altri ti dicevano sì, magari ti dicevano prendi sti sacchi e portali su al quinto piano, per dirti. Io ho iniziato facendo quello, poi sono spostato, ho fatto i traslochi e quindi traslocavo uffici e case private. Ho iniziato a fare lavori un po' più, diciamo, meno devastanti, ecco, a livello di fatica proprio fisica. Quindi magazziniere principalmente, mulettista, benzinaio, cameriere, gridillista, principalmente comunque magazziniere era la mia professione principale, ecco. Ok, e quando è che hai avuto la roba di dire, ok, questa roba qua mi piace e vorrei che diventasse il mio lavoro? Il 26, il 16 gennaio del 2017 alle 4 di pomeriggio. Ero sdraiato, me lo ricorderò per sempre, ah io sono una mina con le date, me le ricordo tutte. Ero sdraiato a letto dopo essere tornato da un turno, allora lavoravo in un supermercato appunto come magazziniere, stavo giocando a Battlefield, io sono stato un grande giocatore di Battlefield per anni. Ero lì a letto e ho detto a un certo punto, ma sai che c'è? Mi piace giocare i videogiochi. Quando esco in compagnia con i miei amici comunque rimango sempre lì al centro dell'attenzione a fare un pochettino, non tanto lo show, comunque a chiacchierare, a raccontare le storie, uniamole a queste cose e vediamo di fare magari diventare un lavoro questa passione. E la stessa sera io ho detto a mia moglie guarda che io penso che farò questo nella mia vita, ho aperto il canale, ho caricato il primo video, Clash Royale. Tu da quanto è che stai con la PAMI? Hai dato tantissimo. 12 anni. 12 anni. E quando tu gli hai detto voglio fare questa cosa qua nella vita, lei ti ha detto ci sta? Oppure ti ha detto... Fai quel cazzo che vuoi, mi ha detto, nel senso sei adulto, se pensi che questo sia da fare, fallo, nel senso. Ovviamente non è stato un cambiamento drastico, nel senso apro il canale e faccio questo. No, io avendo già un'età, avevo 29 anni allora, e lavoravo. Facevo due lavori in quel periodo lì, se devo essere sincero, perché lei non lavorava. E quindi i soldi ci servivano, allora io mi alzavo alle 5 per andare a mettere a posto i giornali in un supermercato, che arrivavano alle 6 meno un quarto. Dovevo metterli a posto entro le 8, perché alle 8 e un quarto dovevo andare in un altro supermercato a fare invece il magazziniere fino al primo pomeriggio. Finivo di fare il magazziniere alle 13, quindi scaricavo i camion, mettevo a posto la roba sugli scaffali e tutto. Alle 13 prendevo la bicicletta, perché andavo in bici, per risparmiare panino. Arrivavo a casa ancora vestito da lavoro e streamavo dalle 14 alle 23. E l'ho fatto per un anno, prima di... di avere un riscontro. Sì, io ho fatto un anno con 20 spettatori, 13 ore al giorno su YouTube. 20, 30, 40... Poi ho 8.400 iscritti su YouTube. Ho notato che comunque riuscivamo un po' a equilibrare le spese, perché su YouTube, vabbè, sai, non viene premiata la costanza, ma sono le donazioni dell'utente, della community che ti aiutano, no? Erano delle donazioni che mi permettevano di avere quasi un riscontro come un part-time, e quindi gli ho detto a mia moglie, sai che c'è? Se vogliamo cambiare vita, devo fare solo questo. E quindi lei ha detto, vai. Cioè, nel senso... E io il giorno dopo ho iniziato alle 8 del mattino, che è il mio orario attuale, a fare live ogni giorno, tutti i giorni. Posso dire una cosa? Cioè, secondo me, di te si vede tantissimo che hai proprio un approccio molto, molto lavorativo. Cioè, si vede... Non so se è brutto da dire, però si vede che hai fatto tanti lavori in vita tua, anche lavori magari pesanti comunque, perché hai proprio un approccio molto, molto... Cioè, 8 di mattina, cascassa il mondo, tu sei in live. Sono nato in una famiglia di lavoratori. Noi non abbiamo mai avuto i soldi, nel senso. Nessuno ha mai avuto i soldi, nel senso. E soprattutto da entrambi i miei genitori, arrivano entrambi da situazione di povertà vera. Il papà di mia mamma era calabrese e a 14 anni ha dovuto venire su a Milano perché giù non c'era lavoro. Loro erano sei fratelli, quindi è venuto su a fare il barbiere. È stato il primo barbiere del paese dove ho abitato per un po' di anni. Mandava giù i soldi alla famiglia. Dall'altra parte, dal papà invece, mio nonno lavorava come falegname e mia nonna lavorava in catena di montaggio e quindi è gente che tutta la vita a testa bassa lavorare tutto il giorno per mantenere la famiglia, fondamentalmente quello che ho voluto fare io e che mi hanno cresciuto così. Che sia giusto o che sia sbagliato, per me il lavoro è sacro, nel senso. Per me è lavoro. Tra l'altro, tu non so se c'eri ancora sulle piattaforme, ma io sono stato la prima persona a dire pubblicamente in chat a tutti che io lo facevo per soldi, questo. Criticando le persone che dicevano negli anni che furono alle community no, non lo facciamo per soldi, i numeri non ce ne frega un cazzo, se va bene va bene no. Allora, io posso capire che a 16 anni puoi anche dire certe cose perché non hai delle responsabilità. a 29 anni con 15 anni di lavoro alle spalle, perché ho lavorato 15 anni, dai 14 ai 29, non puoi sbagliare. Quindi io ho sempre voluto dare la totale trasparenza alle persone perché per me la community è grazie alla community se noi siamo dove siamo. Io, te, i nostri colleghi, nel senso, chiunque, noi non saremo nessuno senza loro. E l'ho sempre detto. Quindi per me l'onestà è la base di tutto. e dire alle persone, ragazzi, questo io lo sto facendo per lavoro. Che non vuol dire che mi fa schifo giocare i videogiochi. Vuol dire semplicemente, è ovvio che ai tempi dovevo obbligatoriamente guardare i numeri, dovevo obbligatoriamente capire cosa fare di content. Semplicemente, chi l'ha capito, l'ha capito. Chi non l'ha capito, mi ha attaccato. Mi hanno attaccato anche molti colleghi per questa cosa. Io continuo nel 2023, dopo sette anni, a dire che chiunque dice che lo sta facendo solo per passione o lo sta facendo perché non guarda i numeri, vi sta prendendo per il culo. Noi viviamo su quello. Ma è chiaro, nel momento in cui diventa un lavoro è innegabile far conto a come va al lavoro. È come un panificio che alla fine controlla quanto pane ha venduto. Quando chiude controlla quanto pane ha venduto. Assolutamente. Perché purtroppo è un lavoro che non ha la concezione di lavoro per molte persone e quindi c'è un po' questo falso mito. Noi siamo arrivati in un'epoca dove nessuno aveva preso, dove tutti pensavano che stavi perdendo tempo dietro a uno schermo. E io ho sempre detto, allora state dicendo che le segretarie perdono tempo? Quelle che stanno sedute otto ore al giorno a battere a macchina o a fare la contabilità. Per noi è la stessa cosa. Non capisco perché denigrare il nostro lavoro. Per fortuna, con gli anni, sembrerebbe in questi anni che i Brandon abbiano capito che in realtà ci sono dei potenziali dietro questo mondo incredibili. Ovvio, è un mondo, come sai bene anche tu, tosto, particolare. Io lo dico sempre ai ragazzi, cioè è molto meno faticoso fare il muratore che fare lo streamer. E l'ho fatto. Perché una volta che tu finisci il tuo turno di lavoro hai staccato. Basta per te, non esiste. Quello che hai fatto 30 secondi prima l'hai già dimenticato. Una volta che inizi a fare questo, tu sei connesso, volente o nolente, per sempre. Finché non sarei connesso per sempre. Certo. Semplicemente. Ma ti faccio questa domanda, Xuder. Vai. Tu pensi che quel lavoro di streamer sia un lavoro debilitante psicologicamente? Cioè possa essere un lavoro incline a deprimere una persona? Questa è una domanda veramente bella. Partiamo dal presupposto che ognuno lo vive a suo modo, innanzitutto. Tu come lo vivi? Io lo vivo da lavoro, nel senso, per me è un lavoro. Otto ore ho finito di lavorare, basta, nel senso, molto semplicemente. Io l'ho sempre vissuto come tiravo su i sacchi di malta o di gesso al quinto piano. Silenzio, testa bassa, lavorare. Ho cercato di essere sempre appunto trasparente in modo da poter introdurre del divertimento. E ce l'ho fatta, perché io con la mia community mi diverto tantissimo. Facciamo le grandi risate e questo è sicuramente una cosa fantastica. Però io penso anche che se entri in questo mondo troppo giovane, troppo giovane, molto di quello che c'è fuori nel mondo vero te lo perdi. Che non è questo un mondo non vero. Però ragazzi, io ogni tanto patisco il fatto di essere tutto il giorno chiuso nel mio box qua, con il sole che mi passa davanti e quando ho finito fuori ancora buio. Non è proprio una figata. Secondo me può tendere ad avere dei riscontri negativi sulle persone. Lo abbiamo anche visto, non è che te lo devo dire io, anche grandi streamer che ci sono stati gli anni precedenti sono scoppiati ragazzi. Ma è normale, è normalissimo. È difficilissimo fare questo, non tanto perché è difficile fare lo streamer. Quello è un mondo a parte, cioè saper condurre una trasmissione è una cosa che non c'entra con quello che sto dicendo. Ma mantenere la lucidità mentale di dire i miei giorni stanno passando e io sono sempre fermo qui. Devi avere una certa concentrazione secondo me nel farlo. Devi essere bravo. Vero, vero. E' quello che penso io. E tu sei felice ora? La felicità non è sicuramente un modus di vita. La felicità sono dei momenti. Io ho i miei momenti di felicità. Tu pensi che è vero che... Beh, diciamo che secondo me ci si accorge di essere felici solo quando si ripensa al momento di felicità. Cioè magari io penso al passato e penso a dei momenti che ora riesco ad attribuire alla felicità. Però è difficile dire, ok, ora sono felice, capito? Magari tra un anno ripenserò a questo momento, non credo però, ripenserò a questo momento e dirò, cavolo lì, effettivamente ero felice. Però è una cosa secondo me che si sviluppa col tempo. Io sono felice nella mia vita quando sono indipendente. Per me la mia felicità è quello di poter avere un paracaduto economico per far fronte a qualsiasi evenienza, anche alla peggiore, nel senso. Perché non sai mai cosa può succedere. Quindi quello a me, la mia sicurezza e la mia tranquillità, può essere parte integrante della mia felicità. Poi io sono sposato con mia moglie e ovviamente io sono felicissimo di avere una persona al mio fianco, che comunque in tutti questi anni è sicuramente stata parte integrante nelle retrovie della mia crescita, perché avere comunque una persona a fianco... Io ho una testa di cazzo, nel senso, io ho veramente una testa di cazzo. Se fosse per me, se fossi stato da solo, avrei fatto H24 in stream perché mi conosco. Io non ho limiti, nel senso, ma perché sono fatto così. Quindi avere una persona che comunque ti equilibria, ti bilanci, ti dice no e ti fa capire il perché ti dice no con delle motivazioni che hanno un fondamento e se tu hai la testa per dire effettivamente forse tutto quello che penso non è giusto, ti permette di andare avanti in maniera più facile, ecco, fondamentalmente. Poi ripeto, se non ti puoi fidare di tua moglie, nel senso che non ti puoi fidare di nessuno. Ma infatti ho visto tante clip dove si traspare, dimmi tu se sbaglio, ma traspare un po' che tua moglie ogni tanto dice tipo lavori troppo, anche quella clip famosa dove lui ti diceva, lui ti diceva, ma lui fa il circo e parlavi di me. E perché quella clip lì, c'è le berri, ma... Però volevo farti questa domanda, Xudor, perché una volta al Games Week dell'anno scorso ti avevo chiesto tu fai Fortnite tutti i giorni e io ti avevo detto, secondo me, io comunque ti parlo anche da... cioè io faccio anche un po' parte della tua community, perché comunque spesso mi guardo le tue live, lo sai benissimo. Io se fossi un membro della tua community... tu ora sei in live in questo momento? Sì, sempre io sono in live, sì, sì. Secondo me la tua community ti farebbe piacere vedere anche tipo dei contenuti di Just Chatting, magari che tu facessi delle reaction, cioè magari in qualche modo può essere un modo per te per anche trovare nuovi spunti, fare qualcosa di diverso, che magari la gente dice... Cioè a me piacerebbe vederti che reagisci a un, non so, a dei video su YouTube, a delle robe divertenti. Perché non lo fai? Me lo dicono in tanti e non lo faccio perché... Boh, non lo so neanch'io perché non lo faccio, nel senso... Non ti ispira come cosa? A me piace giocare a Fortnite fondamentalmente, nel senso... E ho visto che funziona bene, ma perché ho il mio... Ho la mia timeline della live, che so esattamente cosa fare, come farlo, non ci sono momenti morti... Alla fine, parliamoci chiaro, non è che io sono qui perché sono diventato bravo a giocare a Fortnite, no. Io sono qui perché parlo tutto il giorno con la chat. Fortnite è un collegamento per tutti, dove mentre giochi in realtà parli e quindi fondamentalmente... Secondo me, come dire, il rapporto diretto con i ragazzi dietro uno schermo è la priorità. Altrimenti, vedere quelli che magari su Fortnite sono dei campioni, ma non dicono una parola, io non li definisco degli streamer. Sono dei pro player, nel senso... Sono dei campioni e basta. Sono dei campioni, certo. C'è un abisso tra essere uno streamer ed essere bravo a giocare a un videogioco, nel senso... Mi dai in mano Campominato, io ti faccio comunque una conduzione di Campominato. Però a me piace andare avanti così e vabbè, adesso sto portando avanti il discorso musicale, che è la mia grande e vera passione, mia personale, quindi vediamo se possa avere degli sbocchi, ma anche se non... ecco, questo non lo sto facendo con un fine economico, di lucro, a me non interessa. Anzi, tutti i guadagni che io ricevo dalle date, ho già detto che li do ai ragazzi che suonano con me, perché non mi cambia la vita e perché non mi serve. Lo faccio per avere un altro spunto, secondo... Io vivo con gli obiettivi, nel senso... Giusto. Per me farcela ed evitare di adagiarsi è quella di mettere obiettivi impossibili, quindi tipo voglio il milione di follower, mi sono detto nel 2017, l'ho preso l'anno scorso. Ci sono voluti i suoi anni, ma prima del milione di follower, l'anno scorso ho detto voglio che la musica diventi parte integrante di me e per loro. Ed è quello che sto portando avanti. Il discorso è che poi gli obiettivi li raggiungi e quindi la difficoltà è trovare sempre roba più difficile da andare a perseguire. Perché io credo che se insegui un obiettivo hai sempre uno stimolo per poter andare avanti. Sembra una stupidaggine, ma avere degli stimoli nella vita... No, no, ma è fondamentale. È quello che tiene vive le persone, gli obiettivi. Cioè se no la gente si deprime senza obiettivi, secondo me. Io sono sempre stato di questa idea. Cioè avere qualcosa da inseguire è la cosa che ti rende vivo, ti rende... Bravo. Rischi che se non hai degli obiettivi... Leggevo un articolo qualche giorno fa proprio del fatto che comunque può portare a depressione, può portare a ansia, può portare... Io devo dire, non credo di avere mai vissuto momenti di ansietà, depressione, quindi non so cosa voglia dire. Ho delle persone molto vicine a me che invece li hanno passati e sai io credo che finché non li vivi non li capisci realmente. Quindi non mi permetto mai di parlare di stati d'animo che alcuni possono avere se io non li ho mai vissuti. Mi permetto di parlare se qualcosa l'ho vissuto sulla mia pelle. Certo, certo. Anche la depressione sono delle idee che la gente magari pensa che vabbè, si sei un po' triste. La depressione è una malattia, ragazzi. È una cosa pesantissima. Non è che si sta parlando di vabbè, sei un po' triste, dai, fai una partita a pallone e ti passa. No, è una malattia. Credo che si possa mettere come le fobie. Cioè magari tu hai paura dei ragni, io no. E ti dico perché hai paura dei ragni? Mica lo puoi decidere tu che hai paura dei ragni. Hai paura dei ragni, punto, nel senso. Assolutamente. Io però mi piace pensare, ecco questa è una cosa che mi piace pensare e che sicuramente mi dà delle good vibes quando magari mi sa... Oh, anch'io sono una persona nel senso, quindi magari, come ti ho detto poco fa, a volte mi dispiace passare le giornate qua dentro quando fuori c'è il bel tempo, soprattutto d'estate. E però mi piace pensare anche che nei momenti un po' più brutti che abbiamo passato gli anni precedenti con il covid, io ho dato tanta felicità a tante persone e me lo dicono spesso e ancora oggi. Mi dicono guarda che io col covid ero a casa, stavo male, non potevo fare niente, non potevo uscire. Guarda te, c'eri lì ogni giorno, io ridevo e mi hai aiutato tanto. O anche in momenti di persone che dicono sto passando un brutto momento, però cazzo ti apro, sei lì sempre, ridi, rido anch'io, guardo il funny moments, rido anch'io. Per me è una cosa bellissima e quella cosa più bella di tutte queste. Ti chiedo Xyuder, tra dieci anni, cioè la tua idea a livello lavorativo è metto via più soldi possibili e tra cinque o sei anni mollo tutto e vivo di rendita o tra dieci anni tu sei ancora qua o hai altre idee nella testa? Sono ancora qua. Io ho detto a questi ragazzi, ho detto una cosa, il momento in cui non mi vedrete più non sarà per causa mia. Quindi sarà molto probabilmente o una causa di salute, probabilmente o chi lo sa, ma vi garantisco che succederà che Xyuder da un giorno all'altro non ci sarà più. Quindi non sarà perché io sono fatto così, per me il lavoro, ripeto, è quello che mi fa vivere, come dico io, magari non farò più Fortnite, magari ci sarò in una maniera diversa, magari, sai, adesso sto cominciando a fare gli Xyuder trip, per dirti. Quindi siamo andati in America, adesso fra cinque giorni torno a New York, poi volevamo andare a Tokyo e li porto in live. Quindi chi lo sa, magari potrebbe essere questo il futuro e quindi meno assiduo ma sempre presente. Non lo posso sapere, di certo non mi interessa di quanti soldi faccio fondamentalmente. Mi piace farli perché sarei stronzo a dirvi non mi piace farli, ma non mi piace spenderli. Quindi fondamentalmente non ho problemi economici, posso chiudere fra tre minuti dopo la tua intervista, non essermi più presente e sono a posto comunque io, mia moglie, che arriverà dopo di me. Non è questo il discorso. Il discorso è probabilmente non dipenderà da me il fatto in cui non ci sarò più qua. Ecco. Perché fosse per te tu andresti avanti fino a 80 anni a strimare. Perché no? Perché no? Cioè magari è pazzesco da dirlo ma mio padre lavora da 50 anni, fa lo stesso lavoro da 50 anni nel senso e lui lo vuole continuare a fare perché questo è il tuo modo di vivere nel senso. Io ho avuto un parente molto molto vicino che ha lavorato 41 anni nella stessa azienda facendo lo stesso lavoro, ha finito perché è stato obbligato ad andare in pensione e purtroppo è rimasto tre mesi. Poi gli è venuto un male e è andato in tre mesi. E lì si pensa anche per il fatto che hai stravolto completamente la vita di un uomo, cambiandogli forzatamente i suoi ritmi e questo il corpo e il cervello non l'hanno accettato. Poi magari non è così, doveva succedere? Non lo si saprà mai. Però spesso e volentieri sento di gente che gli interrompi il ritmo e crollano, figa. Perché comunque essere sempre sotto pressione, se gestisci la pressione senza overfare, ti mantiene vivo ragazzi. Ti mantiene vivo perché c'hai sempre da fare, sei sempre impegnato, prendo, faccio dispo. Cioè a me mi fa incazzare stare fermo col culo seduto. A me dà fastidio anche dormire, fondamentalmente. Quante ore dormi a notte? Cinque e mezza. Io vado alle due di notte a dormire e mi alzo alle sette e mezza. E quando ti svegli fai fatica oppure ti svegli sereno? Assolutamente no perché non ho mai mollato... Il mio trucco è stato non avere mai avuto lo switch dal lavoro allo streaming. Quindi io prima mi alzavo... Anzi per me è stata una goduria. Perché prima mi alzavo alle cinque. Poi sono passato ad alzarmi alle sette e mezza. Quindi è sempre così. Per me non è pesante. E secondo me questo è fondamentale. Cioè raga svegliatevi presto la mattina fuori il culo dal letto. Nel senso perché la mattina è il momento in cui si è produttivi. Poi il pomeriggio te la vai a chillare. Ma è la mattina, subito, colazione, lavarsi la faccia e andare. Comunque ti giuro... Ti giuro Xuder... Io le persone come te da un certo punto di vista le invidio. Perché nella mia vita io dico... Io non ho mai lavorato particolarmente. Cioè non ho mai fatto dei lavori, no? E avendo cominciato a fare questo lavoro molto presto. E da una parte io invidio... Ovviamente invidio fino a un certo punto. Perché comunque è ovvio che non è che nessuno ambisce a svegliarsi alle cinque di mattina a fare quel lavoro. Però invidio i valori che ti conferisce questo tipo di esperienza, no? Perché tutte queste esperienze che hai fatto tu ti rendono una persona che si vive il lavoro come te lo vivi tu. Tu che scommetto lo vivi in una maniera molto nobile, molto... Cioè... Grazie. Che veramente invidio da un certo punto di vista, no? Cioè io a volte non faccio le lavori perché magari non c'ho voglia, capito? E vorrei invidio questa tua cosa di... Che tu non lo faresti mai, no? E vorrei sentirla anche io. Però purtroppo non la sento perché non ho vissuto determinate esperienze nella vita che mi hanno creato da quel punto di vista. Non la senti perché non hai... Secondo me non la senti, permettimi se te lo dico, perché tu hai creato il tuo format che è unico. Mentre io mi sono dovuto spalleggiare a fianco di altre persone che portavano il mio format, nel senso. Quindi non sono io che faccio una cosa... Io sono unico, tu sei unico, ognuno è unico, nel senso. Però tu non stai giocando, nel senso. Tu stai chiacchierando, quindi le persone, se hanno piacere, ascoltano quello che dici, quello che pensi, come lo dici. Quello che ho fatto io, anche se mi sono contraddistinto, era comunque entrare in un mondo... Anzi, in realtà sono gli altri che sono entrati dopo, perché io ho iniziato probabilmente prima di tutti. Ma sono entrati e vuoi per l'età, vuoi per l'attitudine, per la bravura. Ho passato anni complicati dove ho dovuto veramente fare a spallate per trovare il mio spazio. E quella paura di dire, ragazzi, io ho 36 anni, dove cazzo vuoi che vado a lavorare adesso a 36 anni, nel senso. Cioè, sì, lo trovo sicuramente, ma anche prima era questo è e questo deve essere. Quindi sacrificio, costanza e presenza sono semplicemente tre pilastri dove puoi far fede sul fatto che chi da casa vuole guardarti sa che tu sei sempre lì senza che glielo devi dire. E per me è preziosa questa cosa. E tu sei uno che la sente magari un po' la... Cioè, magari quando un giorno vai in live che magari hai meno numeri del giorno prima... Cioè, tu quando fai live... Ma ora, tu quando fai live li vedi gli spettatori simultanei o no? Certo che li vedo, sì, certo che li vedo. Quante volte li guardi? Li guardi sempre? Sempre guardati ogni 12 secondi, certo. Però non mi interessa più come prima se non stanno andando bene. Ok, quindi se tipo... Prima andavo in paranoia, non è che andavo in paranoia, però prima mi incazzavo dopo la live. Mi incazzavo da solo perché dicevo hai fatto qualcosa di sbagliato. Perché non sta andando bene? Perché prima giustamente avevo la paura di dire servono i danè, anche perché poi mia moglie è stata a casa da lavoro. Nel senso, visto che lei non veniva pagata, abbiamo avuto anche questo problema. Quindi io ho dovuto prendere carico di tutto il nucleo familiare, comprese le spese e tutto quanto. E lì hai delle pressioni aggiuntive che ti dicono, cazzo, non puoi sbagliare, anche perché lo sai meglio di me. È un mondo dove se non guardo te, guardo l'altro e magari mi fidelizzo all'altro, nel senso, e tu l'hai perso l'utente. E purtroppo noi lavoriamo sugli utenti. Adesso non me ne frega niente, cioè, ti giuro, non mi interessa nulla. Infatti, anche qualche mese fa facevo del content pomeridiano che non era apprezzato dalla community, ma piaceva farlo a me e lo facevo con il sorriso tranquillamente, fondamentalmente. Cos'è che facevi? Facevamo Contraband Police. Ah, ok. Che è quel gioco lì dove, sì, è molto divertente, però, ripeto, avendo costruito la community su Fortnite, è normale che c'è gente che vuole solo Fortnite. Non mi interessa più questa cosa, non ho più questa preoccupazione, non mi interessa più. Però, alcune abitudini purtroppo non le perdo. E quindi, è così. Volevo chiederti come ultima domanda. Vai. Cosa ne pensi della tua clip, quella del forno? Beh, che è uscito col cuore quel bestemmione. È uscito col cuore. Perché lì è stato un momento clou per me, è stato un momento unico, primo, è uno dei tre momenti dove io ho passato i 10.000 spettatori nella mia carriera da streamer, nel senso, quindi, capisci bene. Nel momento in cui io sto monetizzando a cannone, in un momento fondamentale che sapevo, io quel giorno ho fatto 2.000 abbonati, essendo sulla piattaforma da 14 giorni su Twitch. Quindi, perché era il 18, io sono arrivato il 5 su Twitch, vabbè, non mi ricordo esattamente. In un momento così delicato è arrivata mia moglie che non gliene fregava innanzitutto un cazzo del fatto che io avessi un sacco di spettatori perché lei non gliene ha mai fregato niente. Ma poi, ha tirato ed è saltato alla corrente e ha detto, non ci posso credere, lì è uscito tutto quello che doveva uscire. Io non ho mai capito. Che cos'è che c'era nel forno? Per quattro? I volavanti. I volavanti. Perché noi abbiamo, devi capire, io abito in una casa molto vecchia, che è della fine degli anni 50, quindi l'impianto elettrico è ancora quello della fine degli anni 50, quindi se attacchi due robe, insieme salta tutto, salta. Infatti, quando io sono in live, è vietato accendere forni in casa mia dal 2018. Quindi, non si può fare, non ci si fa la doccia, non si accendono i forni, non si fa niente di particolare, quindi è vietato completamente. Ma scusa, ma sei in live 8 ore al giorno, quindi per 8 ore la corrente elettrica non... Per 8 ore qui non si deve utilizzare corrente energetica con delle resistenze. Cioè, se gli si scarica il telefono alla PAMI è finita. Non può caricare il telefono. Se si scarica il telefono alla PAMI, manovella e comincia a girare con la Dinamo, nel senso. Il cricentino sulla ruota e lo carichi. Esatto. No, però scherzi a parte, lì mi è uscita perché mi dovevo uscire, nel senso. E appena l'hai detto, hai detto no, ho fatto una puttanata, poi l'hai detto vabbè, vaffanculo, amen. No, avevo la mente annebbiata, non ricordo nulla. Ero completamente nero, ero... Cioè, io la ricordo perché me l'avete fatta vedere voi. Non ricordo assolutamente nulla di quando l'ho detta io. Io non ci vedevo più, nel senso... Veramente? Così tanto? Eh, cazzo, sì, in quegli anni lì, sì, cazzo. Se mi succedesse adesso... Ma mi è successo anche, tra l'altro, in qualche patch, in qualche aggiornamento, dove comunque la community era... Ce n'era tanta, no? Vi parliamo di 5, 6, 7 mila persone. È crashato tutto. Non mi sono più arrabbiato, cioè nel senso, amen. Se tornano bene, se non tornano, è crashato. Sono molto più tranquillo anche perché non puoi essere minchia in rage per sette anni. Cioè, oh, stai scherzando, poi vai fuori di testa. Certo. E quindi è così. Certo, si durano, è veramente un mito. È veramente un mito. Mi ha fatto veramente piacere. Se vuoi un giorno organizziamo magari una roba, magari anche dal vivo, un'intervista proprio bella, profonda. Dal vivo? Ma tanto mi sa che abitiamo vicini, quindi... Tu dov'è che stai? Già a Milano, no? Provincia di Milano. Ok. Provincia di Milano parte a destra o a sinistra? Eh, io non lo so. Tu scrivimi su WhatsApp, nel senso, cosa... Ok, devi farmi domande personali, le nostre fregatele, le nostre... Ma non è che ti ho chiesto la via... Chiede, vuole, 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 vuole fare... Non mi sa capisci. No, va bene. Ma tanto, voglio farti una domanda, ultima domanda, ultima domandissima... No, io voglio un po' domanda. Tu non l'hai mai visto il video... Tu l'hai visto il video dove ti imita, vero? No, mi sono rifiutato. Perché? Perché, allora, tu devi capire che mia moglie ancora un po' ce l'ha con te, nel senso... No! Ma io gli ho sempre detto... Sì, non lo so perché l'hai imitata, ma gli ho detto... Guarda che lui lo fa per ridere, non lo fa con cattiveria. Successe ai tempi, anche tantissimi anni fa, con Ciccio Gamer, che lui ci imitò. E allora... Hai capito? Gli ho detto, guarda che lui non lo fa con cattiveria. È una brava persona, gli ho detto. Non vuole aizzare le community contro. No, zero, zero. Eh sì, quindi mi fa... Io con Grino voglio sapere niente. No, no, no! La Pami è arrabbiata, ti garantisco che la Pami è arrabbiata, è meglio non averla nelle vicine... Porca vacca, io... Ma io percepivo che c'era qualcosa che non andava. Lei ce l'hava ancora un po', sì, sì, sì. Pami, ti chiedo pubblicamente scusa, era una roba goliardica. Non c'è da chiedere scusi. Anzi, addirittura le imitazioni di solito sono viste, anche tipo in TV, le imitazioni sono viste quasi come un, come si dice, un riconoscimento, un... Assolutamente. Un onore, cioè. Io lo posso sapere. Quindi... Ma io lo cambiare tu il modo di pensare a una donna. Io ci ho provato, dopo il quinto anno ho smesso di litigarsi con le quali perché era inutile, nel senso. Quindi sono passati altri sette anni, si vive da Dio senza più litigare, l'importante è semplicemente darle ragione. Bravo. Oh, ti ringrazio per essere passato. No, grazie a te. Spero sei divertito anche la tua community e... Me lo auguro. E niente, me lo auguro anch'io. Buona continuazione e complimenti per quello che stai facendo. Grazie. Grazie, Xudorone, per essere passato. Ciao, buona live, Xudorone. Ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. no